ah se posso mide mi sa che mi kill la truffa dai basta adesso ci chiamo si mamma sa da un goletto di anche da te che cazzo in out sulla bomba? no, la piazza down uno che sta andando su guarda il fioraglio un secondo che sono alla macchina di mid 1 b dietro fioraglio eh ma mi uccide da qua, devo cambiare posto uno in a down uno in a down no, down, l'ultimo teara 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 arriva feroce dove è? no, ghost è morto eccolo col main vai via vai via b shop copri mid scopri copri mid copri mid b shop copri mid eccola che infarto scopri mid si si cambio tu vieni con me in a e nax vai in b va bene che ma c'è un giro da b mk si 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 basta che vai in b vai si c'è un po' ragionarono qua da destra non mi sembra down guarda via costino anzi da qui guarda tu guarda spawn loro eh eh sotto finestroni due occhio 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 arrivano gorghi sotto finestroni lost uscito? no dov'era? troppo finistroni no è uscito ok tranquilli però più caldi ragazzi più caldi eh lo so ah qua vai sentirei ancora i dati mia no un po' meno meno non vado ancora a miglia dove passa di qua adesso spegno uh già in a lo so guardia a sinistra praticamente lo so ho visto e mori sotto ah c'era quadrato tornati indietro verso fieraio raga ce l'hai dietro tu morto l'altro era quello che era tornato indietro no? si si era lunga b era lunga b allora ragazzi però non ho mandato la mia ma il gaspio è lunga si lunga si 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 scopriano leule mi eser guarda 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 ti dico se passano guardi no? 1 bar 1 bar 1 bar, 1 probabilmente a fioraio 1 sta arrivando da mid? Da mid di Na E' stato, guardi Stato? Non lo so, non l'ho visto passare Da quelle parti dì, eh Dov'è? Sine? Chiamalo E' Spawn Scorpio che stai guardando E' già? Arrivi un attimo Casiato E' Una sola bomba Truffa sulla bomba Truffa sulla bomba Corri, corri Corri, corri Ma che è esso? Oh, io non dico Razzio non mi panno Mi armi lo chiede Faccio una da mid 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 Guarda, andò sta Per, sta a coprire Allora Uno è lo spawn E uno copre La via per andare in B Ok Guarda via È l'angoletto tipo Vedo la macchina Ok, raro Molto Guarda via Guarda via Guarda mid Fioraio? Sicuro? Uno mi sembra... No, 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 no Sì Down Guarda via Guarda via In B Non pregai con me Io sto in A Resistito Down B Una come, ragazzi? Arriva uno da A Bello, down Bello Io sono Bishop eh L'ha visto? Quella? No, 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 no Ombra Dov'è? In B Soz Aspetta Secondo piano, se mi sbaglio Guarda il plant No, no, Bishop c'ero io C'ero io Bishop, regà Impossibile Mi metto qua Cingh Fermi, zitti Zitti Mi stavo sulla lontananza Così se plana lo vedo Bello, ragazzi È più tranquillo però Tranquillo Tranquillo Eeehm Mi fate andare in A Con porto tramite Vai Scrivi qua, devi chiamarli prima Cos'è La posizione Soz non c'è una non c'è una guarda qua sono passato io, sono... è il ristorante io e nessuno, aspetta, arrivo io no, non c'è la crit lol ma da che schifo zitto vabbè napoli dietro le ringhiere se le dove hai mirato chi era tu guarda lì bravo bravo oh, sono stati perfetti così perfetti e questo sarà la genesis no, così, rimane per me così non c'è ma gli fai un warbang? no esatto buono zucca eh lo so buono buono c'è pane e pane eh raga io guardo io lascio a ragazzi su sciate anno 1 mid garage garage 1 doppia palme l'ho visto pure 1 fiora 1 barra 22 stava stato impossibile si 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 no no stato non c'è più assista si l'ho visto no dove dove tutto finestroni non c'è dov'è si ne va in una dieta in cause di punish infatti il prossimo anno vado io no si ne lo so lo so si ne per favore vai in no c'ero io sopra adesso sono su a1 che schifo fuori bar fuori bar uno non me lo potevo aspettare raga fuori bar dall'altra parte qui allora cassonetti stanno non ti penso c'è 45 secondi non ci penso che ci si no so se ne per favore si schifo si schifo fuori bar 1 l'anna si era così la scuola a bomba da male meglio si si era una questione che adesso posso parlare l'altro è fuori era fuori l'ambi io erasena un video io finisco però aspetta provo a fargli in sponchi un secondo che è qua è la nave 2A uno garage scorte in uno garage chi cazzo uno dietro fioraio ecco è quello dove stai guardando adesso guardi lo scuolaio che cazzo lo scuolaio ragazzi tutti in B tutti in B si tutti in B io guardo vado mid però se no sotto occhio occhio che c'è gamer che rush rush è un altro fioraio gamer io mi salvo su quel balcone e lo prendo eh vai passo ninja però da qui sempre eh ah allora io passo di qua allora io passo di qua sono solo sono in B sono in B niente da solo e se c'è uno dietro Gordi guarda è stata colpa mia ok niente adesso è che ce ne stavano altre attacche per giro quindi ho ammazzato uno ma ho ammazzato peggio uno è su B perfetto buon plan guarda sta è sceso è sceso eh no questo è dal min è sceso è sceso è morto su B su B io passo mid però faccio un rush strano tranquilli eh se muoio subito scusate sono messo alla gattuta perfetto AHHHH noo bar marato non è bar costa ma che ma che ma che ha cambiato già tutto la madonna ma stai dove è stasso ma no ecco la maria dall'aveta è lunga B sta eh io guarda guarda mi cazzo cazzo che culato zitti zitti era era stato potrebbe arrivare da mezza potrebbe da lì bravo bravo cazzo non avrei voluto dirti cosa migliore se sono qui, ti prego ma proprio non fanno, dove fai? è stato proprio beh, mamma mia no, ti metto di sbragato però no, ho detto lo prende appa vostra, scusi, non scrivi niente di quello che posso scrivere niente dai guardi, sei forte no, io sono rientrato in conversa and the sky drop